Ok, allora, bentornati a questo corso di comunicazione e marketing. Abbiamo fatto il primo incontro con me a San Giovanni Rotondo, in cui abbiamo parlato delle basi, delle cose elementari, di come ci si approccia ad un articolo, di quali sono le cose importanti, degli errori da non fare, cose molto semplici e pratiche che possono esservi utili in qualsiasi attività. Con Lucia avete fatto più un'esperienza diversa, lei mi ha raccontato l'esperienza di lavoro nell'ufficio stampa, anche a livelli diciamo abbastanza alti, insomma vi ha raccontato come funziona il lavoro di un addetto stampa, il lavoro di un ufficio stampa. Oggi faremo una cosa un po' diversa, così almeno per darvi degli strumenti utili, come dicevo l'altra volta, perché alla fine la cosa che serve, questo non è un corso di giornalismo, cioè non si riesce a fare un'esperienza completa, però la cosa importante è quella che a voi possa rimanere qualcosa di utile e oggi vedremo tutta una serie di cose e di strumenti, di trucchetti sul web, quindi su quelli che vengono chiamati i nuovi media, che poi in Italia sono anche abbastanza ristretti per tutta una serie di ragioni, c'è sostanzialmente a parte i blog, a parte le piattaforme che accolgono i blog, quando si parla di nuovi media spesso ci si ferma soltanto a Facebook e Twitter, non ci sono tutta un'altra serie di cose, magari c'è LinkedIn per qualcuno che usa questo strumento, però sostanzialmente in Italia, fino a qualche mese fa, era soltanto Facebook, Twitter neanche esisteva. E quindi oggi vedremo delle cose interessanti su questo, su Facebook, su Twitter, probabilmente ci saranno molte cose scontate, che però magari se vediamo insieme riusciamo a capire come almeno non fare errori e gestire e utilizzare al meglio questi strumenti. Più che Facebook, soprattutto Twitter, che magari mentre Facebook ci passiamo più tempo, soprattutto gli italiani ci passano più tempo rispetto a Twitter, e lo sappiamo usare un po' meglio, in questo caso naturalmente non parlo di Facebook come account personali, ma parlo di Facebook come pagine create proprio per pubblicizzare un progetto, un'associazione, una qualsiasi cosa, e Twitter vedremo un utilizzo un po' più, tra virgolette, professionale per gestire e utilizzare meglio appunto Twitter. E vedremo anche appunto i blog, vedremo come si muove la rete su determinate tematiche, insomma affronteremo diverse cose. Io per iniziare, stavolta diciamo vi prendo diciamo così in contropiede, mentre l'altra volta la prova pratica l'abbiamo fatta alla fine, stavolta la prova pratica la facciamo all'inizio. È una cosa semplice, è un piccolo test, ma davvero semplice, sono 15 domande aperte, sono fogli anonimi, quindi potete scrivere qualsiasi cosa, però è un termometro per misurare la nostra posizione rispetto ai nuovi media, a concetti chiave, ci sono delle cose che occorre sapere, e vediamo insieme che cosa sappiamo, che cosa non sappiamo, e poi tra l'altro vedremo delle cose abbastanza interessanti dopo. Io adesso vi distribuisco questi fogli, ci sono delle penne? Ecco qua. Ci diamo una decina di minuti, così, per rispondere a queste domande. Ripeto, sono fogli anonimi, poi li prendiamo alla fine e li leggiamo insieme. Non serve, sono domande aperte perché ve l'ho voluta fare un po' più difficile, altrimenti le risposte multiple sarebbe stato più facile. Ed è così, giusto un primo confronto per capire a che punto stiamo. Certe cose sono davvero semplici, altre un po' meno. Partiamo di qui per vedere come siamo messi, diciamo, nell'era del web. Considerate che oggi la maggior parte del futuro del giornalismo, dell'informazione, della comunicazione, si gioca tutto lì. Se non lo sapete fare, siete parecchi indietro. E' come non sapere l'inglese e doversi cimentare e confrontare su tematiche come il marketing. Cioè, non ci mettete piede se non sapete utilizzare il web. Questo è un modo per iniziare. Vi lascio e non vi disturbo per il momento. Una decina di minuti circa, poi riprendiamo i fogli. Non vi preoccupate di scrivere cavolate, non fa niente, non vi giudica nessuno. Ok, allora, partiamo dai troll. Non controllo che cosa avete scritto, ma sostanzialmente sono personaggi, gente normalissima che sul blog fa un'azione di disturbo sostanzialmente, scrive cose false, cose che non pensa. Per esempio nel caso del blog di Grillo c'è stata appunto, era un'azione di disturbo con un fine, in quel caso finalizzata magari, secondo appunto quelli del blog, a dimostrare che c'è gente che la pensa in modo diverso, eccetera, eccetera. Secondo appunto quelli, i responsabili del blog, si trattava, con molti dei commenti di critica erano stati creati non da utenti che liberamente magari lasciavano un commento, ma da persone che lasciavano più commenti magari dallo stesso IP sostanzialmente, dalla stessa posizione, allo stesso computer, chiamandosi una volta con un nome, una volta con un altro. Spesso capita magari di trovare, a noi c'è capitato nel lavoro di agenzia che abbiamo fatto, magari di trovare anche delle pagine di Facebook con dei temi un po' particolari, magari contro gli immigrati, contro i disabili, anche messaggi molto forti che attirano un certo clamore, perché magari poi se ne parla sulla stampa dicendo guardate sul web c'è gente che odia i disabili al punto di creare una pagina in cui li insultano, molto spesso queste pagine sono create con lo scopo di creare il caos, ma non con lo scopo di offendere determinate persone oppure con una certa ideologia, sono fatte soltanto per creare confusione, caos. A volte ci sono anche scopi particolari, però diciamo questo è il significato sostanzialmente. Allora la prima domanda che vi ho fatto, che cos'è un hashtag? Tipi di tag utilizzati da alcuni social network per creare delle etiquette. Qui non c'è, qui c'è un cancelletto ed è giusto utilizzare da dritto per marcare. Sì, sì, non saprei quando si tappa qualcuno in un post, si tagga qualcuno in un post. Qualcuno. No, è una parola chiave che serve per cercare tutte le discussioni su quell'argomento, non lo so, un'indicizzazione di Twitter, sì e no, una cosa cancellata, possono essere parole, parole combinate, no. Allora, l'hashtag sostanzialmente, qui do velocemente delle risposte, e poi le troveremo in tutte le cose che vedremo. L'hashtag sostanzialmente è un tag, un marcatore, un'etichetta che viene utilizzata su Twitter sostanzialmente. In realtà è il tag, è questo termine per cui si crea un'etichetta che è un argomento, diciamo. Il tag è il nome di un argomento che viene associata magari a un post, viene associata ad un tweet, viene associata magari anche ad altre cose. I tag vengono utilizzati sui blog, molto spesso. Facebook ancora non ha un sistema di tag, lo sta creando, mentre Twitter è più avanti e permette appunto di trovare, di dare un'etichetta ai propri tweet. Questo che cosa permette di fare? Che se io voglio cercare dei tweet su un argomento, basta che vado su Twitter, l'hashtag tra l'altro è caratterizzato dal cancelletto, da questo simbolo che è il cancelletto con la parola attaccata a fianco. Esempio, cancelletto povertà, mi usciranno tutti i tweet che riguardano la povertà. Allora se io vado su Twitter, poi qui vi spiego perché c'è, anzi ve lo spiego qui perché c'è Andrea Sarubbi. Andrea Sarubbi è un parlamentare italiano, è un deputato del PD, lo prendo non per fare pubblicità Andrea Sarubbi, ma perché lui all'interno del Parlamento ha sempre usato moltissimo Twitter, seguiva i lavori delle camere e twittava molto, ed è molto partecipe, è molto presente su Twitter. E tra l'altro, se vediamo come lo utilizza, la differenza fondamentale dall'hashtag rispetto a quella cosa che mi scriveva qualcuno, che serve per indicare una persona, eccetera, eccetera, su Twitter per indicare una persona si fa chiocciola e il nome dell'account della persona di Twitter. L'hashtag è questo qui, cancelletto, saggi, cancelletto di scherza, poi allora qui c'è una cosa particolare perché qui si tratta di persone che già sono un po' avanzati come utilizzo, però per esempio qui è molto più semplice, hashtag grillo, se io clicco qui sopra e apro in un'altra scheda, vedete come Twitter mi dà tutti i tweet che parlano di grillo, perché sono indicizzati, diciamo così, sono catalogati grazie a questo marcatore, questo marcatore li ritroviamo tutti quanti, così metto qui grillo, posso mettere, come dicevo prima, no, povertà, e mi escono tutti i tweet che parlano di questo tema, di diversi, non solo delle persone che seguo, ma poi vedremo a fondo Twitter. Quindi questo è l'hashtag e ci permette appunto di, come dire, ci semplifica la vita perché nel momento in cui vogliamo seguire un tema particolare, ci interessa la cucina, le ricette magari, mettiamo appunto l'hashtag che interessa a noi e possiamo ogni giorno seguire unicamente quelle cose lì. Questo perché? Perché internet sta diventando un contenitore enorme di contenuti, di articoli. Questa cosa solleva, diciamo, dalla difficoltà di cercare di perdersi in internet. Allora, a cosa serve Google Trend? Serve ad eliminare il... Serve ad analizzare il mercato di un click, a individuare siti con maggiori visualizzazioni, vanno più di moda, sì... Mai sentito? Non lo so. Serve per scoprire le tendenze, misura le tendenze di ricerca sul motore di ricerca Google. Esatto, questa è la cosa più corretta. Google Trend, e poi lo vedremo, è un servizio di Google. Io adesso nominerò tutta una serie di... Non faccio pubblicità a nessuno, però vi faccio vedere nella pratica tutta una serie di cose e dovrò per forza nominarvi Google, Facebook, Twitter e altri prodotti che naturalmente hanno i loro interessi, diciamo. Google Trend effettivamente è uno strumento che poi vedremo che permette di farci sapere la tendenza, non il numero di ricerche, ma la tendenza che una determinata ricerca ha nel tempo. E lo possiamo confrontare anche con gli altri. Cioè, se crescono le ricerche magari di San Giovanni Rotondo su Google, proprio nello spazietto di Google, nella casella, quando io metto San Giovanni Rotondo, schiaccio cerca con Google, quello viene registrato come ricerca, Google Trend mi dà la possibilità di capire se un termine, come dire, negli anni, la ricerca e l'attenzione cresce, diminuisce, è costante, mi fa fare previsioni, e questo lo vedremo insieme. Anzi, già che ci siamo, perché tanto non ci servirà tantissimo, ve lo faccio vedere ora, come funziona. E questo ci servirà, ci serve per capire, e può esserci utile, ecco, mettiamo proprio così, può esserci utile, qualora decidessimo di aprire un blog. Può esserci utile perché ci dà le dimensioni di come, come dire, ci fa capire se un tema è seguito o meno. Ora, in questo caso, Google, basta cercare Google Trend, si trova facilmente, in questo caso noi abbiamo un valore che va da 0 a 100, però 100 rappresenta il picco di interesse di ricerca, non sono numeri assoluti, sono rispetto al periodo, è una percentuale rispetto al periodo considerato, che va, in questo caso, dal 2005 al 2013. Qui fa vedere, se si inserisce, se si seleziona questa casella, in testazioni notizie, ci fa vedere come i picchi spesso sono correlati ad alcune notizie. Qui c'è stato un picco interessante, e la notizia in quel periodo era appunto la cerimonia di ostensione di Padre Pio. Chiaramente, in un periodo così, le ricerche su Google di San Giovanni Rotondo sono schizzate, sono arrivate quasi al massimo, insieme a quest'altro periodo in cui ci sono notizie non proprio positive, diciamo. Però è interessante vedere come vanno. Non vi dice assolutamente i numeri assoluti, perché magari possono esserci più o meno, non vi sa dire quante ce ne sono. Vi dà anche una previsione. La cosa interessante è che voi potete aggiungere un termine di relazione. E in questo caso, vi fa vedere qual è il rischio, cioè, tra i due, chi viene cercato di più, con quale tendenza, eccetera, eccetera. Allora, in questo caso, poi vedremo anche altri esempi. In questo caso, vedete, c'è una differenza netta, ma perché possiamo immaginarlo? Ci dice da dove provengono, e questi sono praticamente tutti dall'Italia, naturalmente, e ci dice i termini legati alle visualizzazioni e le ricerche collegate a questo termine, poi. Per San Giovanni Rotondo, ovviamente, sono queste qui, San Pio, Padre Pio, Gargano, Manfredonia, eccetera, eccetera. Per l'altro, che ora non riesco a vedere perché la pagina è tutta sballata, ah no, eccolo qui, per San Marco e Lamis, invece, ovviamente tutti dall'Italia, spesso si arriva cercando San Giovanni Rotondo, anzi, la maggior parte delle volte si arriva cercando San Giovanni Rotondo, e si arriva a San Marco, però c'è anche Fracchie, visto che siamo nel periodo delle Fracchie. Ora, questi due termini sono, come dire, non ci dicono quasi nulla, perché comunque l'andatura di questo tema sulle ricerche delle persone è costante, però, qualora noi dovessimo aprire un blog oggi, ci mettiamo a tavolino e diciamo io voglio aprire un blog che sia seguito e vorrei scriverci, vorrei aprire un blog sul volontariato, ad esempio. è interessante capire anche prima di iniziare a lavorarci come viene trattato e come il blog reagisce a questo tema. Se vedete bene, come dire, il trend è in diminuzione negli anni. Questo significa che sempre meno questo tema entra nelle ricerche degli utenti. Se per esempio prendiamo un altro termine, una cosa molto più semplice, una torta al cioccolato, questo vi fa capire come viene utilizzato spesso internet, quali sono le ricerche che vanno di più. La torta al cioccolato batte il volontariato negli ultimi anni. Questo significa che in questo periodo le ricerche di ricette e di blog di cucina vanno tantissimo. io conosco alcuni amici che hanno dei blog e sono molto seguiti e questo comunque vi dà anche una una percezione. Poi la cosa bella è che potete inserire dei termini di ricerca. Per esempio possiamo fare un confronto tra un termine semplicissimo ricette generico. cioè le ricette in genere sono più cercate e il trend è in aumento pure qui. Quindi vi fa capire quali sono le tendenze generali su internet e se pensate che Google è uno dei maggiori motori di ricerca e adesso ha anche un browser proprio vi fa capire quali sono le tendenze come si muove e potete affiancare i nomi dei politici per esempio durante le campagne elettorali vi fa vedere chi è più cercato di ed è uno strumento interessante diciamo così per per avere per approcciarsi diciamo in un modo un po' più critico come dire come se ognuno di noi fosse un editore e quindi internet fosse un mercato allora le foto su internet questo le vediamo vediamo un pochettino a twitter i caratteri sono 140 c'è qualcuno non lo utilizzo non saprei non lo so 140 non lo so non lo so non lo uso quanti caratteri un messaggio qui non c'è nulla Google Cadence ah questo è difficile non lo so non lo so mai sentito non lo so non c'è non c'è non lo so non lo so non lo so Google Cadence è una piattaforma che permette questo lo potete cercare benissimo su internet di creare senza sforzi dei siti internet che vanno bene per telefonini per tablet l'utilizzo è molto semplice basta aprire un account segnalare il proprio blog e tramite vi faccio vedere tramite un sistema già già realizzato è facile da usare perché sono tutti molto tutti molto semplici da usare potete realizzare un potete trasportare un sito un blog in una pagina un po' più divertente dinamica sul telefonino ovviamente è un programma che si installa sui dispositivi mobili è un esperimento così come Google fa altri ne porta avanti altri tanti però era un po' per vedere come e quanto conoscevate di Google questa è una cosa un po' più particolare se già c'è un sito internet sì 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 è anche il caso di un'associazione non per pubblicizzare questo diciamo è un uso un po' particolare nel senso che in genere in Italia non è neanche tanto conosciuto era una domanda un po' a trabocchetto volevo sondare la profondità delle conoscenze però sì sì voi avete di sicuro appunto un blog un sito il sito ha l'RSS cioè genera RSS per collegarsi a questi a questi sistemi basta entrare in Google Currents nel sito proprio che c'è online scegliere appunto le impostazioni le immagini di copertina dare indicazioni di qual è l'indirizzo da cui Google Currents deve andare a prendere le notizie poi fa tutto in modo automatico cioè le pesca dal vostro sito le notizie e fa un'impaginazione che è buona diciamo così per i portatili per i tablet eccetera eccetera questo programma però funziona appunto per iPad iPhone Android cioè bisogna scaricare un programma e tramite quel programma accedere a internet oggi ce ne sono tantissimi di questo tipo sono dei feed reader cioè che permettono di leggere appunto le notizie tramite questo sistema di link cioè va a pescare direttamente la notizia seguendo un link e la porta in un lettore in questo caso appunto Google Currents è una sorta di lettore che impagina le notizie in un modo un po' più simpatico e divertente in Italia è poco utilizzato ci sono altri altri sistemi però insomma era giusto per per vedere il testo in pdf vediamo un po' giusto un'altra cosa e poi andiamo avanti tanto le risposte ci saranno le infografiche il fat checking ecco il fat checking per esempio è molto difficile e lo vedremo comunicazione virale sicuro che in un massiccio passa parola questo poi vedremo pure alla fine va bene allora le risposte che abbiamo dato qui adesso troveranno cioè le domande troveranno risposte nelle cose che diremo allora come dicevamo l'altra volta quando si scrive un qualsiasi articolo su un blog su un sito internet velocemente ripeto qualche concetto ricordate bisogna essere completi la regola delle 5 W bisogna essere precisi nel comporre il quadro di una notizia bisogna scrivere per moduli per essere il più chiari possibili bisogna avere uno stile unico che vada dall'inizio alla fine è così cioè il blog deve seguire una regola di stile cioè le maiuscole se le utilizzate le dovete utilizzare sempre se o lo scrivete oppure che ne so comune regioni dicevamo ci sono diverse regole l'importante è essere uniformi essere chiari e utilizzare diciamo tutte queste regole che avevamo detto l'altra volta ora passiamo a un come dire un siamo a un passaggio successivo io ho creato un blog lo metto per bene ci metto le fotografie che adesso vi dirò questa cosa delle fotografie ci scrivo dei testi seguo un titolo faccio un blog di ricette per esempio però appunto il blog io lo devo pubblicizzare devo fare in modo che il il blog il mio sito dell'associazione deve riuscire ad essere ad arrivare su google deve essere raggiungibile deve essere conosciuto eccetera eccetera questo come si fa? si fa senza trucchi qui la questione è un po' complessa si fa prima di tutto essendo originali che cosa significa? che quando scrivo un articolo quando scrivo un articolo di un blog nelle sue parti cioè il titolo il sottotitolo il corpo di questo articolo di questo posto devono essere il più possibili originali spesso ci capita di copiare notizie da una parte all'altra di prendere notizie e pubblicarle sul nostro blog copiandole da qualche parte in questo caso diciamo il materiale originale paga sempre paga sempre e questo riguarda anche le fotografie prima vi dicevo le fotografie si possono utilizzare prendendolo liberamente da internet la risposta è no perché la maggior parte delle foto che sono su internet sono coperte da copyright soprattutto le foto che trovate per esempio sui vari quotidiani sono foto comprate da agenzie non si possono pubblicare sui nostri siti internet sono foto coperte da copyright se noi abbiamo un piccolo blog nessuno ci verrà più o meno a controllare però diciamo che è sempre meglio non utilizzare materiale coperto da copyright questo vale per i testi quindi se copio un articolo da una parte all'altra eccetera eccetera vale soprattutto per le immagini però la cosa che vi dicevo la cosa che paga è quella di creare materiale proprio quindi se si va a seguire un convegno una cosa magari un convegno su la legalità non c'è bisogno che vada a prendere una foto con la bandiera della pace magari di un fotografo e poi mi chiede i diritti seguo il convegno prendo il telefonino faccio una foto e uso quella foto è molto meglio paga molto di più collegare una foto legata all'evento anche se non è strepitosa però è molto più efficace ora quando scriviamo appunto partiamo diciamo dai blog partiamo da dai blog quando scriviamo e quindi anche siti internet cioè alla fine un sito internet e blog ormai sono più o meno tutti sulla sulla stessa lunghezza londa c'è una cosa fondamentale per fare in modo che il mio sito possa essere trovato per fare in modo che il sito della mia associazione possa finire nelle ricerche devo usare delle parole chiave sostanzialmente la ricerca funziona per parole chiave se io cerco appunto San Giovanni Rotondo i risultati saranno di pagine che parlano di San Giovanni Rotondo ora però c'è una cosa fondamentale una cosa molto interessante che mentre prima per far trovare il contenuto di una pagina si usava mettere nell'html i metatag cioè tutta una serie di parole chiave per cui si veniva indicizzati oggi questa cosa non funziona più così non esiste più questo sistema di indicizzazione e molto dipende proprio dal contenuto del testo allora e il testo deve essere come dire chiaro non devo ripetere ogni 5 minuti San Giovanni Rotondo per finire in prima posizione perché la ricerca risponde alle parole chiave risponde ai collegamenti che ho con gli altri siti di San Giovanni Rotondo che richiamano San Giovanni Rotondo cioè se di lì ci sono dei link che rimandano al mio blog questa correlazione viene premiata dai 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 dei motori di ricerca quando vi dicevo del materiale originale per esempio è importante perché se io copio delle notizie completamente proprio di sana pianta da un sito che è molto più forte del mio e lo metto sul mio Google mi annulla cioè la mia notizia la fa scomparire perché è uguale trova le stesse parole siccome magari il Corriere della Sera è accreditato ed è uno dei primi risultati il nostro sito se ho copiato una notizia lo distrugge cioè non compare non compare completamente quindi la prima cosa interessante la prima cosa importante è il titolo sia del blog sia di un post il titolo di un post deve parlare di quello che parla il post parlo per esempio torta al cioccolato il titolo deve essere torta al cioccolato due punti per svegliarsi meglio la mattina per esempio però la torta al cioccolato ci deve essere se parlo di torta al cioccolato perché il titolo del post è quello che uscirà nella come dire nel risultato della ricerca questo è importante perché spesso uno nel blog quando ci si trova a scrivere non scriviamo torta al cioccolato due punti per svegliarsi meglio ma scriviamo soltanto per svegliarsi meglio e basta e pensiamo che la fotografia che c'è sotto al post con la torta al cioccolato faccia tutto non fa nulla invece perché appunto il titolo è una cosa importante quello che c'è scritto dentro pure l'immagine pure perché questo qui questa è una parte e wordpress è una piattaforma su cui ci sono si può aprire un blog così come altri blogspot o altri ancora quindi come google c'è una cosa molto importante che riguarda le immagini che in genere si fa poco quando io inserisco un'immagine ad esempio questo questa immagine qui ora prendo un sito un blog che stiamo facendo partire insieme a altre persone per giusto per farvi un esempio ora quando si inserisce un'immagine noi dobbiamo sfruttare di tutto un post per essere indicizzati tutte le possibilità allora il titolo deve essere chiaro e tondo deve tenere subito il concetto fondamentale poi ci sono tutta una serie di cose se ci sono nel blog cioè se ti chiedono un sommario se ti chiedono quelli pure vanno riempiti diciamo bisogna riempire tutti i campi con dei testi utili non con parole chiavi dei testi utili ad esempio torta al cioccolato posso scrivere la parola ecco la ricetta per fare bene una torta fatta in casa allora in questo modo io nel sottotitolo ho inserito delle parole chiave importantissime ricette voi avete visto ricette come va allora torta al cioccolato è nel titolo ricette è nel sottotitolo torta fatta in casa c'è per esempio sono tutte cose che potrebbero essere ricercate su internet quindi bisogna ragionare in questo modo quando poi pubblico un'immagine e metto la foto di una torta il motore di ricerca anche se adesso stanno cambiando un po' le cose però attualmente l'indicizzazione e quindi come dire l'indicizzazione sostanzialmente è il processo per cui il mio sito internet entra negli indici del motore di ricerca e quindi viene indicizzato entra diciamo tra i siti conosciuti dal motore di ricerca il motore di ricerca poi farà una scansione del mio sito vedrà i contenuti vedrà le parole chiave e le catalogherà per cui quando io cerco torta al cioccolato mi metterà tre risultati la posizione dipende diciamo in base a a tutta una serie di cose come dicevo prima un numero il volume di informazioni che c'è il sito internet se apro un sito con un solo post con la scritta torta al cioccolato non sarò il primo ma se ho 50 pagine di torta al cioccolato in tutte le forme perché il mio sito è un sito specializzato nelle torte al cioccolato di sicuro andrò più in alto nelle classifiche ora l'immagine quando inseriamo l'immagine in un post la cosa importante è quella di scrivere le didascalie prima di tutto il nome dell'immagine spesso mettiamo delle immagini e le carichiamo come immagine punto 1 o immagine 1 punto jpeg e la salviamo su internet e questo è sbagliato perché non ci costa nulla scrivere in questo caso per esempio san pietro no? io ho scritto lì c'è scritto papa è sbagliato però diciamo in quei giorni c'era appunto l'elezione in quel modo anche quella parola è importante quindi metto san pietro punto jpeg nel il titolo in questo caso avevamo messo papa francesco perché era una notizia uscita immediatamente nei giorni successivi all'elezione del nuovo papa quindi è quello più che vaticano è più papa francesco la cosa cercata e poi c'erano tutte le didascalie il testo alternativo che noi non abbiamo messo in questo caso è il testo che compare quando non compare la fotografia magari per problemi di connessione magari per qualsiasi tipo di problema perché magari il motore di ricerca oppure il computer su cui lavorate è un computer su cui le immagini non vengono caricate per qualsiasi motivo compare il testo alternativo anche quello vi dà la possibilità di crescere nell'indicizzazione perché voi aggiungete del testo che è importante per i motori di ricerca questa cosa ve la dico perché è una cosa che non si fa quasi mai cioè è una cosa che non si fa quasi mai quella di mettere delle informazioni legate alle immagini perché spesso si cercano spesso per esempio se devo cercare una torta al cioccolato la cerco per immagini non la cerco per tre risultati del web vado su google schiaccio immagini scrivo torta al cioccolato e poi quella che magari mi sembra più perché magari ricordavo una ricetta ricordavo una torta compare una foto ci clicco sopra e mi butta su questo sito ora quell'indicizzazione viene fatta su queste informazioni se io non metto queste informazioni la mia torta non comparirà mai tra le immagini quindi questa attenzione che deve esserci sulla compilazione di di un post di un articolo su un sito internet dell'associazione che può riguardare appunto un evento allora con l'associazione facciamo un evento c'è la fotografia di un evento anche quella foto deve avere delle informazioni il titolo deve essere chiaro eccetera eccetera però per pubblicizzare le informazioni gli eventi così oggi ci sono tutta un'altra serie di strumenti appunto c'è facebook c'è twitter diciamo che google il motore di ricerca serve se noi vogliamo bisogna vedere appunto che obiettivi abbiamo con il sito se siamo un'associazione che lavora sul territorio un'associazione culturale che lavora sul territorio a me magari può anche non interessare arrivare alle persone che sono a milano a torino mi basta stare qui e in questo caso più che puntare magari essere più attenti su questo basta far funzionare meglio strumenti come facebook strumenti come twitter questi qui poi bisogna anche qui capire chi e quante persone ci sono sull'uno o sull'altro e quindi privilegiare l'uno o l'altro su sui blog io non aggiungerei tanto altro c'è la questione dei tag vi dicevo che quando inseriamo delle notizie qui adesso non ce li mette qui sotto ci sono i tag anche in questo caso è importante appunto per rendere più facile per come dire per inserire il nostro post sulla torta al cioccolato tra tutte quelle notizie delle torte al cioccolato per cui se a me interessano questo tipo di post è più facile che io arrivi lì all'obiettivo questo avviene appunto se io inserisco queste etichette queste etichette appunto che abbiamo tutti i tag che troviamo anche su twitter stessa cosa su twitter cioè se io faccio un canale di ricette e ci metto l'hashtag torta al cioccolato cancelletto torta al cioccolato e quel quel tweet che poi magari è collegato al mio post del del blog quello lì viene catalogato sotto quell'etichetta e quando io vado a cercare torta al cioccolato lo trovo sicuro quindi questo è il meccanismo che bisogna imparare a fare cioè dare valore alle parole che si usano essere essenziali non ripetitivi ricordiamo il titolo torta al cioccolato sottotitolo ricetta per una torta fatta in casa eccetera eccetera quindi non essere ripetitivi non riscrivere sempre le stesse parole e utilizzare tutti gli strumenti il video la fotografia e anche lì riempire tutti i campi questo è essenziale ora diciamo per vedere poi magari vediamo se se dimentico qualcosa ci ritorniamo su se avete domande fermatemi immediatamente perché se no andiamo avanti e e non mi riprendete più sì anche curiosità se non capite una cosa se bisogna ripeterla perché questa è una lezione un po' più tecnica un po' più pesante meno divertente però vedremo tutta una serie di cose interessanti da utilizzare su come scrivere un testo l'abbiamo detto già l'altra volta qui andiamo un po' alla parte una parte un po' più tecnica ora andiamo su facebook allora come vi dicevo prima tutto sta a capire che cosa ci volete fare con un blog se ci volete fare i soldi se volete diventare famosi se volete aprire un blog appunto di di ricette e diventare perché ce ne sono tantissimi tra l'altro pure famosissimi tra l'altro di blog di perfetti sconosciuti anche perché hanno aperto un blog carino caratterizzato magari poi tra l'altro anzi lo vediamo adesso prima di passare a facebook infatti ne avevo dimenticato ci sono dei siti che questo è un esempio nati come blog poi diventano più grandi diventano importanti pure come numero di accessi e vedete come i blog che funzionano i siti che funzionano sono caratterizzati da un'idea sono caratterizzati da uno stile unico nella composizione proprio del sito della pagina i colori il modo in cui vengono presentate le informazioni gli articoli i post vi faccio vedere un sito che non so se l'ho già aperto ma lo riapriamo che è di alcuni ci lavorano alcune persone che conosco parlo appunto di questi casi perché sono casi interessanti che conosco un po' più da vicino allora il sito è questo qui si chiama Nuoc ha vinto anche svariati premi ultimamente ed è un sito nato dall'idea di una ragazza italiana che era andata a New York a scrivere un blog allora aveva cominciato a mettere in piedi questo sito su New York proprio in italiano in cui raccontava gli aspetti più belli della città e Nuoc l'idea di Nuoc Nuoc raccontava appunto in alcune interviste che la versione come dire è New York pronunciata da un bambino è semplice è Nuoc ed è molto semplice ve lo ricordate è originale tra l'altro vedete come il colore ritorna ritorna lo stile poi lo vedremo in modo più approfondito e vedremo lo stile anche negli articoli e come vedete nell'organizzazione della pagina le cose importanti questa è come la prima pagina di un quotidiano quando fate un sito un blog diciamo le cose importanti sono uno un menu in cui soprattutto la prima cosa dovete dire chi siete che fai cioè io odio quei siti internet quei blog dove vai e non sai chi è che scrive perché fa quel blog anche siti di associazioni di organizzazioni importanti tu vuoi capire magari perché si chiamano New York alcune sì ci sono delle organizzazioni che hanno delle sigle perché uno lo sa perché si chiama artefacendo cioè bisogna scriverlo subito perché magari io che sono un giornalista e voglio scriverci e voglio dare come dire diffondere la notorietà di diffondere il sito aumentare la notorietà di questo progetto se vedo che non c'è io comincio se non trovo i numeri di telefono non riesco a contattare le persone faccio altro dico vabbè questo lo faccio un'altra volta e non lo faccio più quindi la chiarezza ma sono cose che dicevamo altre volte qui la cosa interessante vedete come descrive come descrive il blog cos'è New York cos'è New York lo dice in pochissime parole poi dice in 27 parole e poi lo dice in 72 parole cioè per dire se non avete proprio tempo leggete la prima riga se avete 5 secondi in più leggete l'altra se proprio vi do tutta la descrizione vedete allora cos'è New York il magazine online di viaggio arte cibo che avesse nei muri vabbè qui vi dice anche perché è cultura ha messo le parole chiave cioè sono le parole chiave che cos'è è questo 1, 2, 3, 4 qui comincia a dire spinta dall'amore eccetera eccetera e qui vi spiego un po' di più poi si va avanti ci sono anche altre spiegazioni è una sorta di FAQ di domande e risposte le domande che probabilmente l'utente si pone in questo caso e trova già le risposte quanto guadagna e non guadagna niente poi magari ne parleremo di questa cosa del problema della pubblicità su internet che non è non è per niente semplice altra cosa importante se avete un blog o un sito internet come dicevamo l'altra volta sono i link cioè la potenza di questo strumento è che potete permettervi di collegare le cose se non lo utilizzate avete sprecato un'opportunità quindi in questo caso ha messo e ha messo un link è caratterizzato ha lo stesso colore di tutto il resto e poi scendendo giù trovate appunto il riquadro trovaci su facebook per insomma collegarvi anche su questo eccetera eccetera però andiamo a vedere come loro pubblicano una notizia allora loro parlano appunto di viaggi turismo eccetera eccetera un post di questo sito è organizzato in questo modo allora ho preso l'esempio sbagliato perché volevo farvi vedere un'altra cosa andiamo qui qual era avevo visto forse questo sì vediamo sì è questo qui allora guardate come è organizzata questa pagina loro hanno uno stile proprio quindi lo dicevamo e quindi scorrendo velocemente troverete un sacco di immagini perché loro hanno come obiettivo quello di farvi vedere che cosa un bar un ristorante una e ve lo vogliono far vedere l'unico modo è con un video o con delle fotografie in questo caso è una scelta no quella di dettata da diverse cose magari dalla disponibilità tecnica proprio di chi pubblica perché qui ci sono diversi collaboratori oppure dalla dalla semplicità di fare una fotografia e in modo molto veloce senza elaborare senza montare pubblicare il post quindi c'è un buon caffè a New York alla Turca qui ci sono appunto in queste parti poi qui è scritto anche in un modo non si rispettano più o meno i canoni della notizia proprio è scritto in un modo particolare però la cosa che mi interessa farvi vedere è in alto ci sono Twitter e Facebook questa è una cosa che è su un blog su un sito internet ormai non può non mancare ci deve essere sempre sempre e poi devono essere i tasti non il link alla pagina Facebook non dovete mettere un link che dice viene a trovarci sulla pagina Facebook no dovete mettere e ci sono tutti gli strumenti poi per gli sviluppatori su Facebook che poi magari vedremo dovete mettere il tasto in cui schiacciando io dico già che mi piace e in questo modo elimino un passaggio cioè io non vado su Facebook poi devo trovare mi piace schiaccio mi piace ma clicco e dico che già mi piace e poi mi apre la pagina di Facebook poi mette visto che si parla di viaggi di luoghi mette la mappa anche in questo caso si può fare su su Google su Google Maps e ora non affronteremo tutti però è importante saperlo perché magari quando si affronta un progetto e si ha a che fare lo si fa con altre persone magari persone webmaster che ci sanno lavorare però l'idea deve essere di chi cura la comunicazione il fatto di mettere quella mappa lì non del webmaster di chi ti risolve i problemi a livello tecnico quindi c'è la mappa ci sono le informazioni qui su tutte su tutto quello che trova poi c'è la pubblicità poi c'è chi lo scrive e poi ci sono ti potrebbero interessare anche questi sono sistemi che si possono realizzare sul blog però la cosa interessante e importante è vedere appunto i link che ci sono evidenziati nel post ce ne sono diversi e qui mettono per esempio i link durante il ramadan questa è una cosa che si può fare anche facilmente cioè scrivete una ricetta di una torta con un ingrediente particolare potete scrivere che cos'è in poche battute ma mettere un link a wikipedia semplicemente mettete il link che è la pagina più ricca poi per chi ci ritorna diventa anche più interessante vedere magari si scrive di un gruppo che è una cover di una band di cui non si conosce bene il nome si mette il link alla pagina personale o su wikipedia però il link c'è sempre quindi questo volevo soltanto farvi vedere questa cosa qua ora passiamo invece a facebook questo qui è sempre una pagina facebook legata al progetto di cui vi parlavo prima di cui non vi parlavo di cui accennavo che c'è questo blog ma non interessa il contenuto del blog vi voglio solo far vedere come funziona una pagina di facebook ora non so quanti di voi hanno mai utilizzato una pagina di facebook di come funziona però è molto semplice per crearla basta avere un account su facebook e ognuno può creare una pagina personale che può essere di qualsiasi tipo una pagina di associazione una pagina personale su propri interessi eccetera eccetera ma la cosa interessante di queste pagine a parte il fatto voglio vedere una cosa tre risposte posso sapere quante volte viene visualizzato un post della mia pagina facebook sì no non nelle pagine delle persone fisiche sì in quelle eccetera eccetera posso sapere non lo so sì nelle pagine dei gruppi sì non saprei eccetera eccetera quindi diciamo che c'è chi lo sa e chi no la risposta è sì guardate qui allora le pagine di facebook funzionano in modo diverso dal profilo della persona singola su facebook perché hanno uno scopo diverso e quindi hanno lo scopo di farti vedere se la pagina è frequentata o meno se il post interessa o meno eccetera eccetera è logico che voi lo vedete se la gente clicca mi piace se condivide però è anche importante capire la diffusione di un vostro post cioè quante persone l'hanno visto voi quando pubblicate una cosa lo status su facebook non sapete quante persone lo vedono cioè sapete le persone che cliccano mi piace o che commentano in questo caso ve lo dice ve lo dice e vi dice tra l'altro andando sopra le interazioni spontanee e le interazioni virali allora in questo caso le interazioni spontanee sono le visualizzazioni della gente che ha cliccato su mi piace quindi della gente che segue già la pagina quelle virali sono le visualizzazioni fatte dagli amici delle persone che hanno cliccato mi piace o condividi quindi quando voi pubblicate un qualcosa su internet dovete pensare che c'è una potenza di tiro molto più alta di quella che è il numero delle persone che vi segue quindi in questo caso diciamo la parte virale e poi vedremo è sempre così cioè il il nucleo di persone che c'è intorno al sito quindi i 200 qui non ce lo fa vedere per bene però sono tipo 200 e qualcosa queste 200 rotti persone hanno ognuna ha circa 300 amici dai 100 ai 300 chi 400 chi pure di più quando io che ho 400 amici clicco mi piace perché sono collegato a questa pagina anche i miei amici che non sono legati a questa pagina vedono il post quindi c'è questo tipo di interazione la cosa più importante di queste pagine sono gli insight gli insight sono delle statistiche ci permettono di capire l'andamento di quelle che noi vediamo che sono il numero di persone che viene a contatto con i post con la nostra pagina eccetera eccetera e questo vi fa vedere su questo schema per esempio in Fucsia c'è la data il giorno in cui viene inserito un post allora voi potete vedere se interessa o meno se viene seguito o meno spesso magari le notizie di un'associazione possono essere spesso c'è un convegno c'è un incontro e magari queste notizie non interessano e sono più seguite altre come vedete qui sotto voi avete come dire in uno schema in una tabella potete vedere quanto funziona e quanto non funziona una notizia un post potete benissimo vedere così magari se vedete che un post riceve più mi piace ed è seguito questo vi dice sostanzialmente che alle persone che seguono la pagina piace più un certo tipo di notizie condivide più un certo tipo di notizie che altre spesso questo è un errore che si fa spesso le associazioni usano le pagine Facebook per usarlo come bacheca per metterci sui manifesti allora questo giorno c'è questa cosa questo giorno c'è quest'altra cosa a lungo andare questa cosa stanca e si può vedere anche tramite queste informazioni e spesso molti nascondono anche il proprio post il post o l'associazione magari si è legati ma i post sulla bacheca non vengono più come fare allora adesso sugli inside ci sono diverse cose interessanti che possiamo vedere molto velocemente ci sono la panoramica generale vi fa vedere l'andamento con le percentuali se siete in crescita con il numero di mi piace o meno i fan vi fa vedere andiamo veloce qui vi fa vedere uomini e donne qui vi fa vedere i paesi ma sostanzialmente dipende dall'uso che ne fate se è un'associazione locale è chiaro che se si connettono dagli Stati Uniti interessa poco però magari può interessare se io come associazione locale faccio un gemellaggio con una città americana perché che ne so padre Pio allora c'è leggo la figura e faccio una cosa con un'associazione americana mi può interessare cogliere vedere se ha avuto una risposta dall'altra parte stessa cosa le città la lingua utilizzata anche in questo caso qui la fonte dei mi piace una volta aperta una pagina una pagina facebook queste informazioni sono tutte a disposizione e qui c'è portato queste sono invece informazioni che semplicemente non vi da se non avete un certo numero di interazioni per ritornare e finire con questa cosa qui poi vediamo un caso pratico sulla pagina di facebook e sulla portata appunto della comunicazione virale che dicevamo prima basta vedere questo grafico allora quelle a pagamento noi non ne abbiamo fatte si possono fare semplicemente su facebook cioè si creano in 4 e 4 8 perché loro ci guadagnano su queste cose qui oggi non le vedremo questo è il numero totale se vediamo le interazioni spontanee appunto contro quelle virali quelle virali sono molte molte di più quindi questa è una cosa che vi fa capire come lo strumento di facebook sia molto più importante cioè sia essenziale se io apro un blog non posso fare a meno di uno strumento del genere perché se io apro un blog la gente ci finisce soltanto perché o mi conosce o cerca su internet e in qualche modo ci arriva se io apro una pagina facebook legata ad un mio progetto questa parte di persone qui che io non conosco viene raggiunta dal mio messaggio questa è una cosa importantissima poi ci sono anche altri modi lo vedremo anche su twitter su come si può interagire ora vediamo un caso pratico su come viene gestita la pagina di un programma radio che è un giorno da pecora prendo un esempio un programma di radio rai radio 2 ha più di 36.000 mi piace quindi è molto seguito io notavo siccome lo seguo anch'io notavo l'uso che ne fanno a parte appunto le fotografie loro inseriscono molto materiale che rispecchia il programma di quel momento loro vanno in onda in ora di pranzo più o meno e loro durante prima annunciano un ospite prima del programma durante lasciano dei commenti alla fine per esempio fanno delle cose interessanti fanno a parte appunto taggare le persone cioè inserire il nome per tirarle in mezzo fanno una cosa interessante che secondo me si può provare è quella di fare domande cioè loro fanno delle domande agli utenti perché è un programma che in genere tira dentro i commenti delle persone e in questo caso loro lo fanno sempre e la cosa interessante è che lo fanno oltre l'orario del programma c'era per esempio durante il festival di Sanremo loro erano onnipresenti chiedendo vi è piaciuto tizio vi è piaciuto caio fanno delle domande e tirano in mezzo il commento degli utenti perché è importante perché facebook è fatto non per sapere soltanto le cose ma per far interagire quindi io con le persone che ho l'utente che scrive mi piace viene coinvolto di più se io non uso facebook soltanto come una bacheca per appiccicare gli appuntamenti allora questo giorno si fa questo questo giorno no si fa il corso di comunicazione vi è piaciuto l'avete seguito e avete anche una risposta per capire se le persone che vi seguono vi seguono realmente con la partecipazione che hanno e le domande appunto loro hanno anche tutta una serie di risposte insomma chi più chi meno però ci sono ci sono mi piace ci sono un sacco di condivisioni poi ci sono anche i come dire i dove sono l'ho visto prima ecco qui il sondaggio si possono fare anche i sondaggi a me non piacciono in realtà però anche questi sono molto semplici da utilizzare perché si possono fare dal proprio account pure si possono mandare dei sondaggi in alto nella barra in alta di facebook la pagina di facebook funziona molto quasi allo stesso modo del proprio account l'unica accortezza che bisogna fare è che non è la propria pagina personale ma è una pagina di un'associazione bisogna cercare di coinvolgere rispondere ai messaggi che ci arrivano rispondere ai commenti infatti non so se mi sa che l'ho tolta la prima pagina un suggerimento di google che poi di google di facebook che ogni tanto fa eccolo qua ogni tanto ci sono questi suggerimenti si esatto nessuno si si è un rischio è sempre un rischio nel senso che quando pubblichiamo sia su twitter sia su facebook il rischio è quello appunto che non ci siano risposte che non ci siano ed è un rischio reale nel senso che ci si espone in questo caso ovviamente prima di lanciare una domanda del genere io mi vado a vedere le interazioni vado a vedere che cosa interessa di più per sbagliare di meno questi sono questi sono come dire dei piccoli trucchetti nel senso se io ho un'associazione cioè i primi a interagire dovrebbero essere le persone più vicine all'associazione ovviamente se io mi faccio una domanda e mi do una risposta è una cosa banalissima cioè non posso rispondere io lì faccio la doppia brutta figura una cosa che avevamo notato con altre persone per esempio quando pubblico un post per farlo ritornare su in graduatorie perché lì naturalmente i post di facebook scendono giù io che l'ho pubblicato posso dire che mi piace anche se l'ho pubblicato io dopo quelle due o tre rette che è passato che è andato giù io ci clicco su mi piace e risale su se non clicca più nessuno e poi risalendo su in graduatoria le persone che lo rivedono magari quelli che non l'hanno visto prima possono tornare a cliccarci l'altra cosa importante e questo lo vedremo anche su twitter è l'orario in cui si twitter e in cui si twitter e in cui si mettono i messaggi su facebook io non posso pubblicare non posso certo che posso ma è sbagliatissimo non posso mettere su facebook una domanda del genere alle undici e mezzinotte perché lì è sicuro che non mi risponde nessuno passa poco tempo quella notizia finisce inevitabilmente in fondo perché nelle prime ore del mattino basta che qualcuno scrive ciao e sulla mia bacheca passa prima allora noi se abbiamo per questo servono anche gli inside sui paesi facebook non dà informazioni sugli orari twitter in un modo che vi faccio vedere sì e tra l'altro vi faccio vedere uno strumento micidiale per l'uso di twitter facebook non dà queste informazioni però lo possiamo immaginare ognuno di noi va su facebook e vede nella barra di sinistra quante persone è online lo sappiamo gli orari in cui la gente è online allora magari lo controlla la mattina e lì devo pubblicare dalle otto in poi più o meno lo pubblica non lo so molti lavorano tutto il giorno e non lo controllano alle cinque vanno tutti su facebook perché finisce l'ora più o meno di lavoro o nel primo pomeriggio bisogna valutare un po' quello anche i propri contatti vedere un pochettino anche la diffusione che si ha e poi vedere anche nella come dire nella gestione della pagina la risposta che si ha però questa cosa dell'orario è importantissimo spesso lo facciamo quando abbiamo tempo però quello è l'importante noi vogliamo diffondere una cosa vogliamo che sia diffusa dobbiamo scegliere l'orario giusto cioè il modo giusto e l'orario giusto anche per esempio l'idea di scrivere soltanto la domanda spesso abbiamo cioè abbiamo visto ma anche altre persone hanno visto che l'aggiornamento dello stato è in genere ha un punteggio tra virgolette superiore riesce a stare un po' più in alto nella classifica rispetto a le immagini o ai contenuti un po' più più pesanti come video fotografie eccetera eccetera però diciamo la cosa più importante è questa valutare l'orario collaborare tra le persone che rendono viva la pagina e quindi tra chi segue e chi cura il progetto e poi ovviamente è sempre un rischio cioè è chiaro che se faccio una domanda e nessuno risponde vuol dire che probabilmente c'è uno come dire uno scollamento tra io che sono il gestore della pagina e gli utenti vuol dire che gli utenti non mi seguono o la domanda è sbagliata magari se faccio una domanda vi è piaciuto il corso e le persone che sono al corso magari sono poche oppure se ne sono tantissime per esempio probabilmente qualcuno risponderà cioè ci sono delle cose che vanno valutate in questo in questo senso su facebook va bene avevamo detto queste cose qui io non so se ci sono altre cose che volete su cui ci vogliamo confrontare su facebook alla fine è questo voi lo conosce facebook lo conoscete magari è più complicato twitter perché facebook lo vedete ogni giorno come funziona la pagina vi dà delle informazioni in più e delle cose in più ora twitter passando a twitter è come dire è una bestia nera nel senso che noi abbiamo scoperto twitter da poco in italia twitter è utilizzato così più o meno da qualche mese e comunque sta crescendo il numero di utenti twitter ha un utilizzo come credo sappiate un po' più limitato tra virgolette cioè non ci sono esperienze non viene utilizzato in genere per condividere le impressioni esperienze cose che ne so stamattina mi sveglio ma ho la mitica frase che scrivono sempre che si scrive sempre su facebook è lunedì è venerdì cioè il venerdì trovi gente è venerdì oppure il lunedì no è lunedì queste le trovate sempre su twitter molto probabilmente queste frasi non le trovate perché viene utilizzato in modo diverso viene utilizzato per condividere diciamo interessi condividere interessi quindi condividere opinioni di condividere link condividere articoli ed è una macchina infernale perché è velocissima cioè facebook è molto più dipende sempre dal numero di amici che si hanno però twitter è una sorta di agenzia di stampa perché vedete qui abbiamo tre minuti vi dice in quanti minuti ora io per esempio ho poche persone che seguo perché ho altri altri account quello personale alla fine lo uso lo uso relativamente poco però è interessante vedere come nel giro di pochissimi minuti le informazioni vadano scorrano molto molto velocemente e c'è da considerare che oggi è sabato c'è da considerare che siamo in un periodo festivo altrimenti lunedì martedì si tratta proprio di secondi e l'informazione che metto entra in questa gradatoria e come nelle agenzie di stampa corre giù viene rilanciata se la retweet eccetera eccetera ma ora vediamo come funziona vi do due basi magari per chi non conosce per chi non conosce twitter twitter appunto è un sistema per cui nella mia pagina è un sistema di condivisione molto semplice c'è uno spazio di 140 battute sostanzialmente un sms in questo sms voi dovete farci stare tutto quello che pensate cioè volete dare un giudizio lo potete fare soltanto in 140 caratteri e basta e nei 140 caratteri ci deve essere magari la chiocciolina con il nome della persona magari a cui scriviamo ci deve essere l'hashtag con hashtag pasqua perché sto scrivendo una cosa su pasqua se ci metto un link ci deve stare anche il link ed è per questo che si usano dei siti che accorciano i link anche twitter lo fa ci sono bit.ly ci sono diversi diversi tipi basta cercare su google accorciare un link accorciare un url trovate tantissimi sistemi quelli servono per ridurre appunto l'indirizzo che è http 2.0 slash www. eccetera eccetera che prende tutti i 140 caratteri e li mette in uno spazio di 5-6 caratteri come dire le cose gli strumenti sono appunto la chiocciolina e il nome quando voi volete comunicare con qualcuno e lo fate pubblicamente nel senso alla domanda vediamo un po' quanti caratteri si possono inviare messaggi alle persone che seguo su twitter sì qui non mi rispondo credo di sì no non lo so eccetera eccetera va bene la risposta è nì nel senso se il contatto che io seguo tra l'altro io purtroppo io non so il livello di conoscenza che avete di twitter comunque questa è la prima pagina lì il numero di twitter è la mia pagina c'è il mio nome il nome con cui mi trovate su twitter che è chiocciola Gianni Augello Gianni Augello chiocciolo tutto attaccato è quello il mio nome su twitter la descrizione di quel che faccio i tweet following e follower following sono quelli che io seguo cioè a cui mi aggancio per vedere loro che cosa pubblicano ogni giorno e per cui io li seguo e sulla mia bacheca che non è questa è quella è quella generale mi compaiono i loro tweet i follower invece sono quelli che io seguo no i follower sono quelli che seguono me scusate i follower sono quelli che seguono me e quindi che seguono tutte le cose che io scrivo che gli compare nella loro bacheca c'è questo sistema ora i messaggi privati che sono questi qui sono anche in questo caso i messaggi diretti sono sempre messaggi di 140 battute non li posso scrivere a tutti li posso scrivere soltanto alle persone con cui c'è uno scambio bidirezionale io seguo loro loro seguono me se io seguo Vasco Rossi su twitter non gli posso scrivere se lui non segue me l'unico modo che ho per comunicare con lui è pubblicamente e questa è una delle cose più interessanti di questo di questo sistema che è twitter che io posso scrivere sulla direttamente a Barack Obama al suo canale twitter mettendo la chiocciolina il suo nome identificativo e gli scrivo ciao come stai esempio e lo posso fare cioè si può fare si può entrare in contatto con anche persone che non conosciamo esperti magari abbiamo visto un articolo di un giornalista sappiamo spesso i giornalisti hanno sotto all'articolo il nome su twitter l'identificativo che si può trovare e su cui possiamo trovare su twitter si può scrivere anche se non siamo collegati con loro anche se non li seguiamo possiamo tirarli in mezzo dicendo adesso tra i miei non ce ne sono però se andiamo se andiamo a vedere appunto tra quelli in generale scrivendo appunto vabbè chiocciola eccolo qui riotta riotta è un giornalista questo Paolo Baroni scrive a riotta e ci scrive tra i saggi di hashtag napolitano per trovare tutte le cose di napolitano il pdl in piazza chiocciola riotta e in questo modo lui ha comunicato direttamente con riotta gli arriva una comunicazione che è questa qui questa chiocciolina che si trova qui che sono connettici scritti quindi sono i collegamenti le interazioni e qui ti dice le persone che hanno che ti hanno citato ti hanno citato e quindi ti arriva un messaggio cioè tu non puoi anche ignorarlo però sai quando ci scrivi chiocciola eccetera eccetera che la persona che hai interpellato in qualche modo ha visto questo tuo messaggio il cancelletto sono appunto sono gli hashtag quindi sono i temi qui ci scrivete qui il tema eccetera eccetera dunque che cosa vi stavo dicendo su twitter i messaggi c'è tu ah lo strumento che abbiamo per come dire per rilanciare una cosa che ci interessa e andando qui vicino possiamo rispondere quindi magari è una persona che scrive una cavolata oppure una cosa che per noi è interessante possiamo cliccare su risposta compare appunto ci fa vedere anche la notorietà di questo tweet ha avuto tre retweet una persona l'ha messo tra i preferiti e io posso scrivere qui mi mette già la citazione posso scrivere guarda bellissimo articolo è bello interessante eccetera eccetera qui c'è una persona che l'ha messo tra i preferiti qui ti dice chi sono queste persone che si sono collegate con questo tweet e possiamo mettere una foto possiamo mettere la geolocalizzazione la risposta c'è 125 perché comunque abbiamo già inserito un testo poi c'è il retweet retweet significa che io prendo questo messaggio e lo metto nella mia bacheca così com'è e gli do anche un valore così dico guardate che cosa ha scritto questo articolo è interessante aggiungere i preferiti è un altro sistema per dare valore ai tweet molti non lo usano usano più il retweet o le risposte e poi vabbè ci sono anche altre altri altri strumenti utili vabbè però sì no 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 stop alle telefonate cioè finisce lì il tweet di 140 caratteri bisogna fare un esercizio proprio di sintesi e deve essere tutto lì poi ovviamente se voglio faccio 3-4 tweet però la cosa importante è non mettere un discorso su 3-4 tweet posso per esempio seguire come fanno spesso la diretta di un evento faccio la diretta di una partita allora scrivo 25esimo minuto che cosa è successo poi un altro tweet 27esimo minuto è successo questo 29esimo minuto è successo questo posso fare così e così magari copro una diretta una diretta di un convegno per esempio allora parla un relatore ci metto un virgolettato perché l'ha detto in questo momento e lo mando su twitter poi ne metto un altro per esempio una cosa interessante è quando cosa interessante quando si organizzano dei convegni dei corsi che vengono pubblicati cioè vengono condivisi su internet tramite video o comunque tramite twitter si può fare una cosa molto interessante nel momento in cui si annuncia un corso o un incontro si può mettere potete seguire la diretta sull'incontro x seguendo questo hashtag allora per esempio in questo caso potremmo mettere hashtag non lo so comunicazione dal basso esempio un hashtag quindi un tag particolare ovviamente se faccio un convegno sulla povertà non ci scrivo hashtag povertà deve essere particolare quindi magari ci metto il titolo del convegno è la povertà è qui io ci scrivo povertà è qui hashtag quindi cancelletto povertà è qui in modo che le persone che vogliono seguire anche da lontano un convegno sanno che con quella tag con quell'hashtag possono seguire quello che che avviene durante il convegno ora vi dico vi do uno strumento molto interessante per twitter se ci sono domande su twitter fatele pure perché cerco di insomma di dare in modo disordinato ma è importante che ci siano un po' tutte le informazioni poi la cosa fondamentale è essere curiosi la cosa fondamentale è smanettare nel senso entrare in confidenza con uno strumento vedere gli altri come lo utilizzano capire l'utilizzo che ne fanno per esempio prima vi facevo vedere il caso di Sarubbi che dalla camera scriveva open camera hashtag open camera e in quel modo tramite quel tag si potevano seguire si possono ancora seguire tutti i lavori della camera in tempo reale quando c'è lui che twitter oppure quando ci sono altri che scelgono quell'hashtag vi faccio vedere uno strumento che ci permette di fare delle analisi su twitter e questo è molto importante questo è uno strumento a pagamento perché twitter viene utilizzato soprattutto da come dire viene utilizzato molto spesso anche a livello professionale cioè sono siti internet sono pagini sono quotidiani che utilizzano twitter aziende che utilizzano twitter e ci sono degli strumenti molto interessanti che vi permettono di utilizzare al meglio twitter twitter è velocissimo dicevo un tweet tu lo mandi e sparisce in pochissimo tempo a meno che non è caratterizzato appunto da un hashtag e quindi può essere rintracciabile in qualche modo ma è velocissimo come sistema questo programma si è un programma è un sito internet che vi fornisce un servizio e vi permette di analizzare l'uso che fan di twitter i vostri contatti si chiama social bro è a pagamento però perché molti molti programmi come questi sono a pagamento ce ne sono alcuni gratuiti ma non sono completi questo vi permette di iscrivervi per 15 giorni in modo gratuito ad un vostro account e questo vi permette magari nel momento in cui voi avete un'organizzazione un'associazione di andare a fondo anche per una volta sola per capire chi sono i vostri follower chi sono le persone a cui parlate chi sono significa a che ora si connettono a che ora sono attivi che è una cosa importantissima perché se io mando come dicevo prima un tweet una cosa alle 6 di sera non lo legge nessuno si chiama social bro vi dicevo questo qui è legato ad un altro progetto che 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 seguo e qui vedete il numero di follower è abbastanza elevato questi sono sono tutti più o meno stranieri perché si tratta di un canale in inglese e quindi adesso vedremo perché vi dico questa cosa perché nella fascia oraria vi vi dirà alcune cose allora qui ci sono tutta una serie di strumenti sono tutti in inglese ovviamente perché questi siti poi sono sono molto interessanti perché twitter viene utilizzato molto all'estero molto di più che in italia e quindi strumenti di questo tipo difficilmente ci sono anche in italiano bisogna sapere un po' di inglese ma le parole sono abbastanza semplici non ci sono testi grandi c'è testi molto corposi da tradurre nella prima schermata vi dà la possibilità qui sotto di capire chi sono le persone a cui siamo legati allora ci dice per esempio le persone gli amici a cui siamo legati inattivi ci dice chi sono le persone che hanno un canale twitter che seguiamo o che loro seguono noi che è inattivo che non funziona qui non vedo la barra ogni volta mi va su ci dà informazioni come tipo ecco qui i contatti famosi che abbiamo i contatti influenti che abbiamo qui l'influenza è calcolata in base ad un certo fattore particolare però è importante perché se per esempio seguiamo abbiamo il nostro classico esempio del blog di ricette e seguiamo un cuoco famoso che ha 40.000 follower noi se lo tiriamo in mezzo diciamo se scriviamo un messaggio sempre che sia a tema con quello che facciamo con il nostro blog e lo citiamo in un commento magari su una cosa che ha scritto lui sul blog scriviamo chiocciola al nome del cuoco scriviamo a me io avrei messo il cioccolato fondente a posto del cioccolato al latte in questo modo anche noi abbiamo la possibilità magari se ci risponde di avere una certa visibilità perché in questo modo noi usufruiamo il discorso di prima non solo dei nostri contatti ma anche dei contatti che c'è il cuoco e quindi in questo modo apriamo verso una platea più ampia di persone però questo strumento diciamo per non farla lunga su internet lo trovate come social bro proprio scritto così non riesco andare su vediamo se ci riesco qui ecco qua c'è una cosa interessante che vi fa vedere ecco qui qui vabbè lo vediamo questo qui questo qui è real time cioè vi fa vedere chi c'è adesso online dovete twittare adesso voi sapete che adesso avete queste persone su twitter che sono attive adesso quindi se io so che non ci sono le persone del corso non faccio la domanda vi è piaciuta perché tanto non ci sono aspetto che tornino a casa per esempio perché per controllare questo qui appunto è un modo che vi dice per esempio qui la lingua vedete come cambia nel tempo vi dice la lingua qui abbiamo spagnoli inglesi e italiani gli inglesi sono di più degli spagnoli vi dice le persone vi dicono su quale tipo di client sono appoggiati tutta una serie di informazioni la cosa più importante però per chi utilizza anche per tempi brevi questo questo strumento di cui ce ne sono tantissimi basta cercare social bro similar su google ne trovate altri è questo che è il best time to tweet eccolo qui allora questa è una cosa fondamentale per twitter dovete sapere quando pubblicare qui è tutto in inglese ovviamente però vi fa capire esattamente quando i vostri follower sono online e quando sono attivi online i pallini rossi i pallini neri sono diciamo il momento migliore per twittare c'è quanto la maggior parte dei vostri utenti è online se twittate lì due o tre messaggi è molto più probabile che uno dei vostri follower vi legga prima di tutto e che possa interagire con voi gli orari sono scritti in basso in questo caso sono orari da da fuso orario americano perché iniziano alle 12 13 di mattina sono le 6 le 7 a new york perché appunto dicevo questo è un canale twitter che abbiamo in inglese si inizia alle 7 cresce fino ad arrivare più o meno alle 7 di sera e il giovedì penso che sia il giovedì no? sì il giovedì il giovedì a luna alle 7 di sera italiane c'è il boom c'è il picco massimo di contatti quindi se devo pubblicare qualcosa io che sto in Italia e ho questo canale in inglese non pubblico la mattina perché la mattina alle 8 non c'è nessuno alle 9 non c'è nessuno alle 10 non c'è nessuno alle 11 neanche quindi io la mattina non lo tocco comincio a pubblicare dalle 13 13 14 e poi mi muovo guardando anche i risultati questo qui questo tipo di di analisi si può fare anche diciamo nel dettaglio qui sono tutti io posso vedere il lunedì l'una queste sono sempre le 19 guardate allora si va e va sempre increscendo fino alle alle 3 italiane quindi lì saranno le le 9 sono le 9 lì per esempio negli Stati Uniti e questa operazione poi lo possiamo vedere anche in altri grafici che abbiamo in base all'ora no insomma ci sono diverse diverse cose e più infine ci sono questo programma vi dà la possibilità di vedere quali sono i temi di cui parlano i propri follower e i link che vengono pubblicati dai propri follower allora questo mi fa capire che in questo periodo le persone che mi seguono parlano di Messico parlano di Obama people police security e cose varie il Messico torna sempre quindi se io voglio utilizzare al meglio diciamo se voglio avere dei contatti magari non parlo solo di Messico ovviamente però so che il Messico è un tema che va forte e va forte l'hashtag va forte e di questi programmi ce ne sono tanti che vanno utilizzati twitter di per sé non è come facebook che offre delle statistiche twitter queste statistiche non le offre queste statistiche vanno cercate tramite altri programmi va come dire bisogna metterci un po' del nostro nella ricerca e utilizzare programmi di questo tipo vediamo un po' io vediamo tra l'altro c'erano altre cose no vabbè quelle erano cose per finire vabbè altra cosa ovviamente quanto tempo abbiamo ancora? possiamo continuare una cosa importante per esempio per un sito internet avere un contatore un contatore di accessi per vedere appunto anche in questo caso qui siamo siamo un po' più sulla parte gestionale dobbiamo stare attenti alle persone che ci seguono o meno ci sono tantissimi tipi di contatori però ci può interessare il posto da cui si connettono l'ora a cui si connettono proprio perché il motivo è legato a questo sempre facebook per esempio non abbiamo informazioni da facebook quando la gente è connessa le possiamo avere dal nostro sito internet in questo modo più o meno se le persone sono connesse al nostro sito internet è molto probabile che in un'altra pagina abbiamo aperto facebook quindi informazioni di questo tipo le possiamo trovare in tanti modi ed è importante questo riuscire a raccogliere l'interesse proprio per cercare di evitare che i messaggi cadano a vuoto o annunci cadano a vuoto poi ci sono tutta una serie di regole da seguire come l'evitare magari per esempio su facebook cioè bisogna essere discreti così come quando si scrive un post non bisogna riempirlo di parole così come su facebook non bisogna riempirlo di tag non bisogna prendere una fotografia io che sono un'organizzazione e taggo tutti i miei amici queste sono cose che in genere non si fanno cioè quel messaggio lo raggiunge raggiunge i tuoi amici così come su twitter non c'è bisogno di prendere tutti per farsi vedere e cominciare a citare tutti tutti i propri le persone che noi seguiamo e magari non ci seguono costantemente per farli agganciare a noi la cosa che noi dobbiamo curare è il contenuto la cosa interessante cioè una persona un contatto ci segue se noi abbiamo qualcosa da dire se noi abbiamo qualcosa di interessante e su questo dobbiamo puntare non sul fatto di cercare di riempirgli la posta eccetera eccetera anche con i tag l'effetto che si ha è quello contrario l'effetto che si ha è magari che una persona nasconte gli annunci mette i messaggi nel cestino insomma bisogna essere bisogna puntare sulla qualità dei contenuti e poi i contatti se la qualità c'è arriveranno insomma in questo caso ci sono diversi tipi di contatori contatori che ti danno anche in questo caso ti danno anche le località da cui arrivano le visite e anche in questo caso tutto dipende sempre dal tipo di progetto che che porta avanti in questo caso si va dal livello mondiale si arriva nel particolare io posso sapere in Italia da dove arrivano i contatti per capire se è un tema che è seguito come associazione magari ho fatto un progetto in un'altra regione posso vedere se ci sono dei contatti se è stato pubblicizzato se questo è importante sempre per avere un come dire una presa di coscienza costante di quella che la diffusione e se è un progetto è letto spesso si fanno appunto siti internet senza chiedersi se siamo seguiti senza chiedersi se abbiamo un reale ritorno questi meccanismi tutti questi meccanismi facebook e la possibilità di interagire ci danno la possibilità di capire come migliorare un progetto come migliorare la comunicazione come migliorare i vari strumenti l'utilizzo dei vari strumenti questo si i contatori molti c'è anche google analytics per esempio che si sui contatori ce ne sono diversi gratuiti spesso quelli a pagamento sono offrono o servizi in più o ti coprono fino ad un certo numero di utenti al giorno magari dicono fino a mille utenti unici al giorno è gratuito se sorpassi questo numero ci sono delle offerte in genere diciamo i contatti di un'associazione anche di un progetto non si va sopra le migliaia di accessi unici al giorno significa un utente che magari ci torna anche più volte al giorno ma è un utente che va sul sito quindi di possibilità di siti gratuiti che offrono questi servizi ce ne sono tantissimi questo sì io direi che siti di questo tipo contatori di questo tipo ti danno anche poi un'altra informazione che vedevamo l'altra volta ti dicono quanto tempo le persone si fermano sul sito sul sito internet cioè c'è chi si ferma dieci secondi chi si ferma tre minuti voi potete capire se una persona legge un articolo o meno dal tempo che si ferma se si fermano cinque secondi non ha letto se non c'è nessuno che si ferma per più di dieci secondi vuol dire che quella cosa non è stata letta quindi vuol dire che magari quella pagina del post il testo va ridotto probabilmente perché magari abbiamo scritto una cosa troppo lunga oppure non abbiamo messo neanche un'immagine sulla cosa delle immagini qui saltiamo da una cosa all'altra però è molto interessante spesso appunto vi dicevo prima il nome dell'immagine è importante torta.jpeg dobbiamo pubblicare la torta non dobbiamo scrivere immagine.jpeg come nuova pagina nuova immagine così come magari ce lo salva l'editor sul nostro computer torta.jpeg quando lo inseriamo nel blog dobbiamo mettere tutti i test alternativi e descrittivi dobbiamo scrivere che cos'è eccetera eccetera una cosa dobbiamo utilizzare immagini originali anche per esempio sulle torte un esempio interessantissimo è questo se voi fate un sito un blog in cui parlate di ricette e pubblicate fotografie che si vede che sono prese da qualche altra parte la credibilità cade immediatamente è come se voi avete bisogno di un cellulare andate su uno dei siti di annunci voi io voglio sapere chi di voi acquisterebbe da un annuncio che mette come immagine non quella del cellulare reale che metto in vendita ma quella che trovo su internet e dico ottimo stato cellulare in ottimo stato fa molta più presa quello che ti fa vedere il cellulare reale magari c'è un graffio però dico guarda c'è un piccolo graffio però è questo in ottimo stato tutte le prove che volete fare però l'immagine originale è importante davvero importante su questo per esempio c'è una cosa molto importante che si può fare per rendere il sito un po' più più vivo e in modo molto semplice è quello di inserire le infografiche ora tra l'altro questa era una domanda un'illustrazione giusto comunicazione virale no infografica un'immagine grafica con informazioni e semplici infografiche i giornali sono pieni di infografiche l'infografica è è una cosa come dire i giornali appunto sono pieni è una cosa semplice da fare che se fate un sito internet vi risolve anche dal problema di trovare un'immagine allora vi faccio vedere un esempio e poi vi do anche qui un altro strumento gratuito che potete utilizzare per creare delle infografiche si possono creare infografiche sul web tranquillamente allora andiamo su questo progetto di cui ne abbiamo parlato a lungo oggi e vi faccio vedere questa pagina ora a parte la risoluzione dello schermo però qui è una pagina in cui si parla dei piccoli comuni il testo è pesante cioè è una pagina di dati e dici i piccoli comuni sono 5.000 rotti quelli gli abitanti che vivono nei piccoli comuni sono se leggiamo questo testo qui è molto pesante 5,7 milioni sono informazioni necessarie per chi finisce su un sito che parla questo è un blog che parla di piccoli comuni sono informazioni necessarie utili per chi finisce lì e vuole capire il contesto però se vado a e guardate qui no l'organizzazione i titoletti in grassetto i link qui parlo dell'Atlante dei piccoli comuni ci metto il link all'Atlante dei piccoli comuni così se voglio approfondire clicco e mi vado a vedere l'Atlante e poi paragrafetti semplici piccoli divisi per così come le domande che avevamo visto per Nuoc la domanda la risposta la domanda la risposta brevi per riassumere tutto un'infografica io con questa infografica che è mia è originale cioè non c'è sugli altri siti è fatta solo per me l'ho fatta io e l'ho messa qui e in questo modo io rendo più accattivante il sito rendo più semplice la lettura anche per i quei pochi secondi che la visualizzo perché non me la leggerò questa pagina qui sotto la leggerà soltanto che è realmente interessato magari una persona che finisce lì sopra per scrivere un articolo per farci una una tesi un compito a scuola alle scuole superiori o in piccoli comuni magari ne parlano a scuola con il professore di geografia deve fare un articolo e dice l'ho trovato qui ci ha scritto tutto questo e tra l'altro noi citiamo anche la fonte perché non siamo noi il piccolo blog che diciamo ste cose le abbiamo prese da una fonte autorevole abbiamo messo il link alla fonte autorevole in questo modo però noi prendiamo tutta la maggior parte la grande fetta dei visitatori mordi e fuggi perché internet è così cioè apri una finestra la guardi un po' se non sei realmente interessato la maggior parte delle volte che stiamo su internet lo vediamo noi stessi andiamo molto veloci in questo modo riusciamo a vedere in uno due e tre tre dati tre disegni ed è molto più interessante vi fa vedere che i piccoli comuni fino a cinque mili tanti sono 5.683 contro i 2.000 quindi la bolla più grande contro quella più piccola qui dice che la superficie territoriale è più della metà quindi capito c'è questa le casette con questa freccia qui dice che un italiano su sei quindi diciamo una porzione di tutti gli italiani si possono fare questi giochetti come si può fare allora o siete bravi ma anche qui ci vuole un corso a parte per programmi di per modificare le immagini immagini vettoriali oppure ci sono diversi strumenti anche su internet che uno è per esempio questo qui si chiama easily che già la parola vi rende il concetto no? è semplice ci andiamo su tra l'altro mi sa che ci siamo ci sono già sono già entrato dove l'ho aperto eccolo qui sì ci sono già entrato qui mi dice quelli che ho fatto e io ho fatto questo qui allora questo qui è un programma che vi permette di creare infografiche e di condividerle facilmente io qui si possono creare vi voglio far vedere come possiamo creare vediamo se mi apre vi apre un editor sulla pagina del vostro browser è qui un po' un po' lento ma dipende da sono programmi che richiedono comunque una una banda un po' veloce nel senso che comunque sono devono caricare delle informazioni cerchiamo di farla un po' più piccola così possiamo vedere ecco ed è molto semplice come qui adesso è la parte dell'editor però voi potete inserire delle forme in vario modo poi potete vi faccio vedere delle cose molto semplici potete inserire forme disegnini che trovarli magari su o realizzarli proprio ex novo è un po' più complicato tipo gli omini bisognerebbe prendere delle fotografie fare insomma lavorarci un pochettino questi programmi ti danno vi danno la possibilità questi questi siti internet questo è uno dei tanti basta mettere soltanto ci sono tantissimi siti che vi danno la possibilità di cercare vi danno risposte su questo tipo bisogna soltanto cercare perdere un po' di tempo per cercare lo strumento migliore e vedere anche i commenti delle persone che l'hanno utilizzato questo per esempio è uno dei migliori e vi dà la possibilità appunto di inserire oggetti per fare delle infografiche questo è un progetto fatto apposta allora si possono inserire gli omini si può inserire l'omino con il braccio alzato lo posso mettere qui anzi lo metto lo metto qui poi ovviamente si può fare più piccolo e l'autobus lo metto qui esempio è semplicissimo ora di cose del genere su internet c'è solo internet ha una risorsa infinita di queste cose anche di risorse gratuite e voi in questo modo potete realizzare un'infografica le attività dell'associazione di artefacendo volete un post volete pubblicare un post appunto come artefacendo e dire le attività che sono state fatte durante un anno ci sono programmi del genere che senza andare a chiamare il grafico che magari se non avete un amico grafico avete un blog personale non conoscete nessuno le potete fare semplicemente poi di qui si va si esporta tramite questi comandi qui sopra dice salva come eccetera eccetera tra gli oggetti ci sono diverse categorie che qui non si vedono bene perché ho rimpicciolito ci sono ecco per esempio il food ci sono ci metto una tazza che posso cambiare anche colore posso cambiare l'opacità degli oggetti insomma ovviamente sono limitati nel senso che non ci troverete tutto però cose essenziali le potete trovare e in questo modo potete rendere più come dire più attraente un post con del materiale originale questa è la cosa essenziale io penso che vediamo diamo qualche altra risposta su su queste domande e poi penso che se ci sono appunto domande vostre altrimenti diciamo che abbiamo toccato tantissime tantissime cose sì sì sa sapore anche perché il corso il nostro laboratorio dal basso in marketing e comunicazione oramai sta giungendo al termine questa era la penultima lezione forse in questa come in poche altre si è percepito si è percepita la stretta relazione che intercorre tra marketing e comunicazione proprio per questo noi abbiamo voluto intersecare questi due importanti argomenti e pensare che appunto attraverso la giusta interpretazione del marketing e della comunicazione anche la cultura si può attingere di impresa può diventare impresa al di là della cultura noi oggi viviamo in un'epoca forse la prima in assoluto nella storia in cui per aprire un'attività commerciale culturale di qualsivoglia natura non è più necessario aprire una serranda una saracinesca attraverso appunto i nuovi strumenti informatici che abbiamo a disposizione possiamo aprire un'attività commerciale un'attività culturale senza possedere granché perché questo corso come i tanti altri laboratori dal basso che sono stati organizzati in tutta la Puglia lo dimostrano andando in streaming raggiungono anche persone che non sono potute venire fisicamente qui quindi si può fare anche attività culturale facendo a meno del contatto reale il che non è necessariamente il massimo delle prospettive però è una possibilità è un'occasione quindi per tutti quanti quelli che hanno partecipato sia fisicamente che da casa o da qualsiasi altro luogo attraverso lo streaming si percepisce come sfruttando adeguatamente determinati strumenti determinate risorse che oggi più o meno abbiamo tutti quanti a disposizione possiamo inventarci il lavoro che non c'è oggi per questo mi auguro che tutti quanti chi più chi meno in diversa misura in relazione alle proprie sensibilità usciamo arricchiti da questa esperienza e invito chiunque volesse a fare appunto richieste di chiarimenti di maggiori informazioni a prendere il microfono e chiederle a me per esempio veniva in mente una cosa pur dando per per scontato diciamo per assurdo che ognuno di noi io per esempio sono il primo che non sono un grande smanettatore per usare un termine già utilizzato anche facendo finta che sia così ovviamente penso che difficilmente ognuno di noi abbia tutto il tempo e le competenze necessarie per veicolare al massimo una propria iniziativa culturale o imprenditoriale attraverso questi strumenti vorrei chiedere al docente se lo sa perché potrebbe anche non essere così se esistono dei team cioè sicuramente esistono però per esempio non mi è mai venuto in mente di fare una ricerca sul mio territorio diciamo la provincia di Foggia per capire se ci sono dei team specializzati per supportare mi verrebbe da dire 24 ore su 24 iniziative forse più commerciali che culturali perché magari ci può essere un ritorno maggiore anche se appunto pure la cultura può essere può riuscire a generare profitti se ci siano team specializzati che possono occuparsi di queste cose 24 ore su 24 per una data cioè per un team che si occupa di comunicazione comunicazione strategica comunicazione che in questo caso cioè che nella lezione di oggi è veramente molto molto vicino al marketing quasi secondo me a mio avviso comunicazione e marketing quasi si fonda in questo è chiaro perché comunque un messaggio viene come dire quando comunico qualcosa io il mio obiettivo è quello di raggiungere delle persone ora posso raggiungere una persona perché ti chiamo al telefono al cellulare e ho il mio obiettivo è parlare soltanto con te se scrivo una cosa su facebook il mio obiettivo è raggiungere quante più persone interessate all'argomento possibili quindi è chiaro che mi interessa raggiungere più persone per qualsiasi motivo magari su un'associazione culturale che vuole diffondere magari la lettura del libro allora più gente ho e più gente raggiungo raggiungo meglio è i team sì ci sono ovviamente c'è gente che ci lavora su questo cioè ci sono tantissime aziende anche multinazionali che ci lavorano che gestiscono le pagine facebook di aziende di gruppi di fondazioni di associazioni c'è proprio chi ci lavora ci sono aziende che hanno delle persone che fanno solo questo se noi oggi dovessimo cercarle dovremmo cercare alla voce agenzie di comunicazione sì sì agenzie di comunicazione sul territorio bisogna vedere nel senso che penso che di sicuro ci sono le agenzie di comunicazione quanto siano specializzate o meno su questo e sul territorio bisogna vedere sul territorio cioè non so qui sul territorio quante ce ne sono probabilmente ci sono delle agenzie di comunicazione che seguono 24 ore su 24 non lo so però la complessità di tutto di tutto quello che abbiamo visto oggi cioè gli utenti come si muovono chi sono quando sono su internet tutto questo comunque richiede un impegno e c'è proprio chi lo fa per lavoro per evitare proprio che si facciano errori che si facciano errori come domande che rimangono lì e comunque gli errori si fanno e la cosa più pericolosa tra virgolette è che è vero che io posso rimuovere un tweet posso rimuovere un post su facebook non mi risponde nessuno io faccio finta di nulla e lo cancello lo posso fare però poi ci sono anche casi eclatanti di brutte figure fatte magari anche da politici con messaggi ci sono stati casi di messaggi razzisti da parte di un politico che vengono poi fotografati da alcuni utenti e rimangono è un è un microfono che ovviamente come dire se io scrivo una cosa su un giornale di carta una pubblicazione che rimane nel paese rimane qui se scrivo su internet io virtualmente potenzialmente ho scritto a tutti chiunque può vedere quella cosa quel messaggio quindi bisogna trattarlo per quello che è cioè uno strumento delicato delicato che può creare un sacco di benefici e che se usato male può anche creare dei problemi sì sì io volevo giusto facciamo giusto una cosa vediamo giusto qualche altra domanda così per chiudere poi vi faccio vedere un filmato perché vi ho inserito alcune cose interessanti giusto per per rispondere a tutte il testo di un documento pdf indicizzabile non lo so sì sì il testo di un pdf è indicizzabile perché dipende come è realizzato il pdf se il pdf che è un formato appunto di testo contiene delle immagini e il testo non è selezionabile no in genere i testi sono selezionabili però diciamo che conviene sempre inserire un testo conviene inserire sempre anche nei pdf nei file allegati le didascalie che ci sono per indicizzarle meglio cosa sono i fake blog il fact checking allora vi dico un attimo che cosa è il fact checking poi finiamo con i fake blog e la comunicazione virale giusto per per dare diciamo un assaggio di di cosa permette di fare il il web di cosa permette di fare la comunicazione soprattutto e diciamo di come di una cosa importante che essere un po' più furbi nel comunicare può rendere molto furbi nel comunicare appunto l'infografica a me non è che mi serve cioè perché devo mettere l'infografica l'infografica è un come dire è un'astuzia per creare il sito un po' più accattivante i fake blog sono giusto per darvi un'indicazione sono dei dei blog creati anzi no dovevo dirvi il fact checking sto facendo una confusione incredibile tra fake blog e fact checking il fact checking è un come dire un ce l'ho aperto qui è un nuovo modo di approcciarsi alla comunicazione che è nato negli Stati Uniti cioè si dà la possibilità agli utenti di verificare le notizie questo perché vi ho tirato in mezzo questa cosa qui del fact checking cioè c'è tutto un sistema per cui viene proposta una notizia da parte di un utente la notizia dell'utente viene come dire pubblicata e si richiede agli altri utenti del progetto di verificare in qualche modo se una citazione sia vera o falsa spesso capita come per esempio per Papa Francesco che sono state riportate notizie storiche e in questo modo si interagisce tra gli utenti per riuscire a capire se apportando naturalmente delle fonti portando naturalmente altro materiale se una cosa è vera o falsa questo qui a parte tutto che cosa vi dice che oggi il web si sta muovendo verso una interazione tra i contatti quindi e ritorno al discorso di prima Facebook Twitter Twitter io non lo posso utilizzare scrivendo soltanto oggi penso che Napolitano abbia fatto la scelta giusta punto senza mettere un hashtag senza citare nessuno e utilizzandolo sempre così sempre in questo modo utilizzando sempre in questo modo io sostanzialmente amputo la funzione migliore che ha il web oggi cioè quella di coinvolgere gli altri Facebook e Twitter mi permettono di coinvolgere gli altri e questa cosa la devo usare sempre con intelligenza ma la devo usare questo qui diciamo un progetto così poi magari se volete potete questo è un progetto italiano di questo del fact checking se volete potete approfondirlo da voi l'altra parte sono i fake blog e la comunicazione virale un fake blog è una parte della comunicazione virale la comunicazione virale è una comunicazione astuta tra virgolette nel senso che è utilizzato molto dalle aziende soprattutto di diversi prodotti comunque a livello aziendale nella comunicazione nella pubblicità che cosa faccio io vi comunico qualcosa come un virus il virus ha un nucleo che è il DNA che è la parte vera del virus e poi tutto l'involucro intorno che ha la funzione di trasporto e così è la comunicazione virale cioè io cerco di comunicarvi un qualcosa che può essere guardate il mio prodotto posso pubblicizzare un prodotto di un'azienda però lo faccio con un messaggio che apparentemente non ha nulla a che fare con il prodotto però è bello è divertente allora io questo questo come dire tutto il corollario che tutto tutto il messaggio che c'è intorno al prodotto è talmente bello è divertente che io lo pubblico allora su facebook ti dico ragazzi guardate quanto è divertente questo video lo pubblico e in questo modo pubblicizzo il prodotto però il video è divertente in questo modo come un virus questa comunicazione questo questo concetto che può essere magari anche un messaggio di un'associazione culturale la comunicazione virale la possono fare tutti la possono fare tutti e su internet diciamo è forte proprio perché è facile condividere è facile condividere con gli altri allora faccio un video per esempio un video divertente bello che me lo guarderei tutti i giorni però alla fine mi dà un messaggio che può essere un messaggio di un'associazione o appunto di un'azienda ora vi volevo far vedere per chiudere così ci lasciamo con un sorriso una pubblicità qui siamo lontani anni luce dall'Italia quindi è una pubblicità di un prodotto penso sia americano se non sbaglio che questo qui è un video virale in questo modo a volte non c'è bisogno neanche di fare la pubblicità in televisione per pubblicizzare un prodotto appunto è un video particolare di un prodotto che diciamo non era di un prodotto per come dire prodotti di bellezza per la cura del corpo per uomo ovviamente ritorna cioè il protagonista è un uomo giustamente non è una donna però il video sostanzialmente ha pochissima a che fare col prodotto questo video e questi video perché poi hanno fatto una serie infinite di questi video ha come dire ha fatto un boom proprio di di condivisioni e il prodotto ha avuto una pubblicità inaspettata o non vi so dire se è stato venduto di più o di meno però di certo questo video ha avuto una diffusione incredibile questo così come altri video perché sono effettivamente divertenti questo appunto ci dice che ci dice una cosa fondamentale che sostanzialmente oltre alla cura che dobbiamo avere perché il video è fatto bene la cura di quello che comunichiamo dobbiamo essere accurati precisi non dobbiamo dobbiamo creare cose originali e dobbiamo essere anche un po' furbi nel comunicare le cose perché l'obiettivo nostro è raggiungere come dire utilizzare al meglio gli strumenti utilizzare la condivisione soprattutto e raggiungere il maggior numero di utenti possibile l'obiettivo l'obiettivo muove gli elementi, muove gli strumenti con il movimento dei muscoli e quello è il prodotto che non si vede in questo filmato, è il prodotto che ha in mano e questo filmato così come tanti altri hanno nulla a che fare con i prodotti per la cura del corpo però è un messaggio che funziona e funziona a livello della condivisione perché viene condiviso, fa il giro di inter, di facebook, è un messaggio che funziona, è virale ma funziona grazie